A bella spettacolo nel castello aragonese grazie a tanti volontari del paese che hanno messo in scena la storia del castello dalla fondazione. Ai giorni nostri è obiettivo mostrare la bellezza di questo importante sito, è stata la Proloquo Il Borgo ad organizzare l'evento, la storia narrata a parte dalla costruzione del castello intorno all'anno 1000, spazio poi alla leggenda di Isabella per arrivare fino al fenomeno del brigantaggio. La Proloquo con questa iniziativa culturale vuole valorizzare il secolare castello che in passato è stato utilizzato anche come carcere e poi come scuola.